Questa è una giornata di speranza, di gioia. Le immagini di ieri che arrivano dalle strade di Roma con decine di poliziotti e di carabinieri feriti per degli pseudopacifisti mi rendono ancora più orgoglioso che da 36 anni decine di migliaia di persone vengono a Pontida e poliziotti e carabinieri sono in mezzo a noi col sorriso perché sanno che sono a casa loro. Evviva le forze dell'ordine, evviva le divise. Chi non ha paura non deve temere. Ovviamente quella sinistra...